amici buongiorno da discover helmet channel oggi vi parliamo di un esemplare dall'aspetto davvero unico è il nolan x 802 r uno dei caschi più apprezzati nel regno delle ruote perché le sue grafiche riproducono quelli dei caschi usati in gara ma non sono solo le decal tra l'altro applicate tutte minuziosamente a fare di questo integrale in fibre composite il casco dei campioni del mondo ma questi non sono melandria cieca vi stavamo proprio aspettando non è incredibile tutto completamente made in italy l'x 802 r per chi cerca il massimo delle prestazioni per questo anche io ho scelto x 802 r è tutto made in italy tanto per cominciare con la sua visera ultra white hai una visuale più ampia in più il sistema di ventilazione è molto più completo io penso che davvero top gli interni invece sono ammovibili in tessuto unitern 2 un mix di microfibre elasticizzate di una nuova generazione che esercita un controllo attivo della traspirazione i guanciali sono disponibili in taglie differenziate per un miglior fitting e ricordiamoci le tre misure di galotta esterna per le sei taglie disponibili in più c'è anche l'innovativo spoiler asd posteriore con profilo variabile che ottimizza il comportamento del casco durante la guida esattamente è ideale per quello che va in pista come me o per quello che va su strada per non come me più piano dal vostro inviato di discover helmet channel è tutto vi aspetto alla prossima puntata e vi ricordo che tutti i caschi in holand group sono garantiti 5 anni e sono 100 per cento made in italy grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti